Stiamo continuando a fare quello che personalmente faccio dal 13 febbraio, cioè da quando sono arrivato in questa provincia, ma che facevano già da prima. Ovviamente, cioè continuare a lavorare per l'accoglienza diffusa. Quindi i numeri su bagnoli stanno ovviamente diminuendo. Meno partenze e meno arrivi sulle nostre coste, meno migranti anche negli abberi realizzati in Veneto. Se dal governo arriva la doccia fredda per con nessuna chiusura, ha affermato in Parlamento il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, il cambio di marcia di alcuni sindaci del Padovano ha portato i primi effetti sulla ex caserma nato di San Siro di Bagnoli. Se a febbraio i comuni che accoglievano erano 4 su 10, a dicembre la cifra si è invertita. 6 comuni su 10 accolgono, 4 no. Ma la tensione resta alta, lo confessa il prefetto di Padova, Renato Franceschelli. Qualche sindaco ogni tanto si arrabbia, però insomma io penso che sia doveroso, soprattutto nei confronti di quei sindaci che da sempre e da subito hanno preso questa loro quota. E il problema non si limita a Bagnoli, spiega il prefetto. Bagnoli era un numero considerevole, ma non è solo Bagnoli che ha grossi numeri. Penso a Montagnana, penso a Battaglia. Ci sono altre realtà che comunque hanno numeri considerevoli, anche se non in strutture come Bagnoli. Quindi poi un po' alla volta dovremo anche ragionare con quelli per portarlo a quello che è il livello poi dell'accordo nazionale, cioè del 2,5-3 per mille abitanti.